Non ha vittoria stagionale per l'Alba Verde e Caltanissetta, ma quanta fatica. Incannata da una classifica che si è dimostrata bugiarda, la combaggia nissena ha sofferto più del previsto, l'irruenza e la combattezza di una saracena che ha fatto passare un brutto quarto d'ora alla formazione nissena, dimostrando da subito che non era scesa a Caltanissetta per una passeggiata. Il primo set è stato vinto dall'avversario, ma la combaggia nissena ha poi vinto i tre set successivi, lottando contro una saracena a Maidoma, ma alla fine conta il risultato e rimanere a guardare le avversarie da capolista. A margine della gara, sottolineiamo il grande successo dell'iniziativa Doniamo Sotto Rete, con parecchie decine di giocattoli nuovi e usati, raccolti grazie al cuore dei tifosi dell'Alba Verde. Prossimo impegno, domenica 18 dicembre ad Erice, contro la Procori. I risultati della decima giornata serie B2 Girona M. Cus Catania, Funivia Etna 3 a 1. Alba Verde e Saracena 3 a 1. Stefanese e Procori e Ricina 0 a 3. Gioiosa Zafferana 2 a 3. Planet Brico City 0 a 3. Fideli Storretta Volley Region 3 a 0. Ardenz Comiso Pallavolo Crotone 0 a 3. La classifica. Alba Verde 28 punti. Zafferana e Pallavolo Crotone 26. Procori e Ricina e Cus Catania 21. Gioiosa 18. Fideli Storretta 17. Funivia Etna 16. Saracena 12. Volley Region 9. Brico City Volley e Ardenz Comiso 6 punti. Stefanese 3. Chiude la Planet a 1 punto.